4.000 opportunità lavorative, dall'ICT al digital, dai mestieri all'automobile, dal commercio alla grande distribuzione. Tutto questo e molto altro è stato Io Lavoro 2015, la Job Fair di Torino, giunta ormai alla diciannovesima edizione, e che ha raccontato una grande storia, quella di italiani, giovani e meno giovani, che cercano un'opportunità su un mercato del lavoro che sembra essere tiepidamente ripartito. Convegni, conferenze, workshop e dimostrazioni pratiche, per raccontare ai giovani cosa vuol dire il mondo del lavoro e per consentire una mobilità maggiore sul mercato da parte dei lavoratori. Betacom, azienda di tecnologia e informatiche applicate, è stata presente con uno stand e durante tutta la manifestazione ha ascoltato e fatto colloqui a moltissimi professionisti del settore e a posizioni junior. Betacom, circa il 70% è costituito da laureati, un 30% di diplomati e una gran parte di questi ragazzi e di queste persone passano attraverso processi selettivi che sono quelli appunto di una fiera come questa, i Career Day all'interno delle università di informatica e il Politecnico di Torino e di Milano, piuttosto che in altre occasioni e in altri progetti specifici realizzati con strutture istituzionali come i centri per l'impiego. Betacom collabora con C-Soft da anni, C-Soft organizza soccorsi SAP, che cos'è SAP? SAP è questo software gestionale inventato in Germania che è utilizzato in moltissime aziende in tutto il mondo e va veramente a ricoprire e a gestire ogni settore dell'azienda, quindi dalla contabilità, amministrazione alla logistica alla gestione del personale. Proprio per questa sua enorme diffusione, per questa enorme richiesta di persone che conoscano questo gestionale, noi abbiamo deciso di focalizzarci sulla formazione di figure che possano lavorare su SAP. Noi organizziamo corsi per profili junior, quindi diplomati o neolaureati nelle discipline economiche, informatiche, ingegneristiche. Chi si rivolge a noi sono anche figure senior, quindi già consulenti su altri gestionali che hanno esperienze come appunto consulenti in aziende grandi o di piccole e medie imprese. Grazie alla collaborazione con Betacom, stabilita appunto alcuni anni fa, abbiamo maggiore visibilità e molte persone si rivolgono a noi, noi le formiamo e Betacom poi le assume e le mette da cliente.